A Poggio Nativo si respira un certo fermento che vede un susseguirsi dei lavori tesi a valorizzare il centro storico e il decoro urbano. Sebbene anche a Poggio Nativo, ha dichiarato il sindaco Antonini, ci sia un bilancio disastroso anche in virtù delle nuove norme, ci sono stati e ci saranno interventi importanti. Tra questi la messa in sicurezza della scuola elementare per la quale inizieranno i lavori a giugno immediatamente dopo la chiusura delle scuole. E sempre sul fronte scolastico saranno destinati 50.000 euro erogati dalla Regione. In questo caso l'impegno vedrà la sistemazione di tutto l'impianto di riscaldamento. Altro intervento, in questo caso anche di tipo architettonico, ha riguardato il centro storico di Monte Santa Maria, il primo e più antico centro al quale è seguito quello di Poggio Nativo. I lavori, iniziati nel dicembre 2014 e per i quali sono stati stanziati 40.000 euro, stanno per essere ultimati per poi proseguire nel centro di Poggio Nativo. Ma parlando di centro storico e della tutela ambientale, il sindaco sottolinea l'intento di avviare quanto prima la raccolta differenziata affinché non avvenga più che i paesi circostanti vedano Poggio Nativo come una discarica. A tal proposito si sta pianificando un piano europeo per il quale sono previsti oltre 2 milioni di euro. In questo caso però ci vogliono 6 mesi, un tempo troppo lungo, aggiunge Antonini, ragion per cui stiamo procedendo nel frattempo con un appalto provvisorio che prende il via a giugno. In tal modo si avrà un'estate più pulita.